La strada Stratale 106 è stata inserita nel documento di economia e finanza, con il nuovo bilancio vengono destinate risorse per 3 miliardi di euro. Operazione D3 contro i reati ambientali in Calabria controlli, sequestre e sanzioni nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. È iniziato in corte d'appello il processo a Mimmo Lucano, in primo grado il ex sindaco di Riace venne condannato a 13 anni e dice spero si faccia giustizia. Catanzaro verso il voto, Giorgia Meroni dà la carica a Fratelli d'Italia che corre in solitaria con Vanda Ferro. La ciclovia dei parchi inaugurato nel parco del Pollino, il tratto di pista ciclabile tra Campotenese e Murano Calabro. 25 di maggio 2022, ben trovati sul 15 per l'informazione regionale di Esperia TV. L'avete sentito nei titoli, la strada Stratale 106 è stata inserita nel DEF, il documento di economia e finanza, con il nuovo bilancio il governo stanzierà 3 miliardi di euro. Il DEF è un documento di programmazione economico-finanziaria che ogni anno in primavera viene elaborato dal governo per anticipare le sue intenzioni in relazione alla futura legge di bilancio. Non una legge, ma un documento, non stanzia risorse, ma quantifica le destinazioni più importanti, programmando quelli che dovranno essere gli investimenti fatti in manovra. Ecco la novità. Nel focus infrastrutture del documento di economia e finanza, la strada statale ionica viene inserita tra le opere strategiche per il governo di Mario Draghi, il quale scrive che diventa necessario concretizzare il piano di riqualificazione complessivo dell'arteria nell'intero tratto calabrese, con la programmazione e la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza per un importo stimato di oltre 3 miliardi di euro, oltre alle risorse già stanziate per gli interventi in corso. Sì, perché un miliardo e 300 milioni ci sono già e servono al megalotto 3 della Sibaritide, altri 220 milioni sono la prima tranche del tratto Crotone-Catanzaro, che vale un miliardo e mezzo, e poi occorrerà realizzare i piani di fattibilità dei tratti Crotone-Mirto e Soverato-Reggio Calabria. Insomma, per il governo la strada statale 106 è un'opera prioritaria e Palazzo Chigi si impegna a stanziare le risorse con la prossima legge di bilancio. Il progetto di fattibilità tecnico-economica di prima fase della tratta Sibarit-Crotone sarà realizzato entro il primo semestre dell'anno in corso. Entro la fine del 2022 è invece prevista la conclusione dello studio progettuale della tratta sino a Reggio Calabria. Adesso gli stanziamenti con i quali finanziare gli interventi sulla statale 106, impostati nel DEF, potranno essere definiti in termini concreti in legge di bilancio. Ma su questo il governo è stato chiaro, ci saranno almeno 3 miliardi di euro. Voltiamo pagina, ci occupiamo di cronaca, operazione dei carabinieri contro i reati ambientali. 250 militari dell'arma hanno partecipato all'operazione DIP-3. Vediamo di cosa si tratta. Prosegue in Calabria l'attività di controllo e di monitoraggio ambientale da parte dei carabinieri impegnati in una massiccia serie di controlli lungo l'intera fascia ionica. Si tratta dell'operazione DIP-3, prosieguo di due precedenti attività che ha visto l'impiego di numerose squadre lungo 250 chilometri tra le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza. Controlli mirati nei confronti di 50 attività produttive, al termine dei quali i titolari di 17 attività, 6 autolavaggi, 3 caseifici, 3 cementifici, un'azienda agricola, un'azienda zootecnica, un cantiere navale, un mercatino dell'usato ed un meccanico, sono stati denunciati a piede libero per gestione dei rifiuti non autorizzata, scarico di acqua e refluo e non autorizzato, smaltimento illecito dei rifiuti, sversamento di liquami derivati dalla produzione di latticini, abbandono illecito di rifiuti e reati in materia edilizia. Sono state elevate diverse sanzioni a carico dei titolari delle attività. I rilievi hanno portato al sequestro di due attività, un cantiere navale ed un cementificio, che avevano adibito illecitamente delle aree per autolavaggio, officina meccanica e stoccaggio dei rifiuti. Le verifiche si sono concentrate sulle attività produttive esistenti nei pressi di aree umide, fiumi, torrenti e canali di scolo, con particolare attenzione alle zone interne. Abbiamo naturalmente individuato una serie di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, quindi sono state elevate delle esenzioni amministrative e sono stati deferiti dall'autorità giudiziaria un certo numero di soggetti. Sono state fatte anche importanti campionature con la collaborazione dell'ente e la stazione zoologica Anton Dorn, i cui operatori hanno assunto la qualifica di ausilio di IPG per darci questa collaborazione. Andiamo avanti. La prima sezione della Corte Suprema Federale del Brasilia ha confermato l'autorizzazione all'estradazione in Italia del narco, trafficante di indrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei criminali più ricercati al mondo. Morabito era stato arrestato nel maggio dello scorso anno dalla Polizia Federale, poi trasferito al Penitenziario Federale di Brasilia, dove è da allora detenuto. Ora il Governo federale sarà incaricato di consegnare il boss alle autorità italiane. In Italia Morabito è stato ripetutamente condannato per un totale di oltre 100 anni di reclusione per traffico internazionale di droga. È iniziato oggi davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria il processo di appello nei confronti di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, condannato in primo grado ad oltre 13 anni di reclusione dal Tribunale di Locri nell'ambito dell'inchiesta Xenia. Oggi in aula non c'era Lucano, c'erano i suoi difensori, ma l'ex sindaco ha parlato della sua vicenda nel corso di un'iniziativa organizzata dalla CGL a Chiara Valle Centrale. È iniziato a Reggio Calabria il processo d'appello a Domenico Lucano, l'ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni e due mesi di reclusione dal Tribunale di Locri nell'ambito dell'inchiesta Xenia. Davanti alla Corte d'Appello sono state prima lette le motivazioni del ricorso presentato dai difensori di Lucano e delle altre persone condannate insieme a lui, con l'accusa di aver utilizzato i fondi destinati all'accoglienza per trarre vantaggi personali. Associazione a delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per gli avvocati d'Acqua e Pisapia, che avevano definito la condanna in primo grado abnorme, l'obiettivo dell'ex sindaco di Riace era uno solo ed in linea con quanto riportato nei manuali Sprar. L'accoglienza e l'integrazione. Lucano, che non era presente in aula, ha parlato della sua vicenda a margine della seconda edizione del premio Liberetà, organizzato dalla CGL a Chiara Valle Centrale. Posso chiederti perché oggi non ti sei presentato l'inizio del processo d'appenso? Anche quando c'è stato il dibattito processuale, tante volte non sono andato, qualche volta mi è capitato di andare, perché anche sul piano emozionale non... preferisco così, non c'è un motivo particolare. Nella giustizia creda ancora? La giustizia dei più deboli, sì. Ma guardiamo reato per reato. Invito a questo. Guardare reato per reato. È giusto che mi hanno condannato per un gesto di generosità, perché ho fatto le carte d'identità e non me le sono pagate. Questo interrogativo vorrei che si risolvesse. E' giusto che devo essere condannato solo perché mi hanno accusato che ho mantenuto più a lungo le persone. Qual era il mio obiettivo? Era sicuramente rispettoso, non della legalità, ma quelle erano linee guida. Se rispettavo quelle linee guida, come sindaco dava indicazione, cacciate le persone fuori dopo che fanno i sei mesi. Era tutto risolto. Non incorrevo in questo reato, non incorrevo nel reato di truffa, non incorrevo nel reato di abuso d'ufficio, non incorrevo. E poi questo della soluzione del delinquere. Il vescovo ha detto bene, è venuto a fare il testimone, col treno è venuto, fino al tribunale di Locri. Anche io ho fatto questa soluzione del delinquere. voglio dire che la procura chiede 7 anni e 11 mesi per me, per questi reati. Il giudice le raddoppi, quasi. Ma io voglio sperare che si nasconda qualcosa. I carabinieri di Lamezia Termi hanno tratto in arresto un 58enne, il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una serie di perquisizioni eseguite nelle aree rurali Lametine, con l'ausilio dello squadrone di portato Cacciatori Calabria e del nucleo Cinofili, sono stati rinvenuti 60 kg di marijuana all'interno di due cassolari riconducibili all'uomo. Inoltre, all'interno di uno dei due immobili, oltre alla droga, è stata riscontrata la presenza di ambienti e strutture atti alla produzione, ma anche al confezionamento della medesima sostanza. Catanzaro, Catanzaro verso il voto amministrativo per eleggere il nuovo sindaco del nuovo consiglio comunale. La campagna elettorale di tutti i candidati va avanti. Alla comunale è arrivata la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per sostenere la candidatura a sindaco di Vandaferro. A Catanzaro si poteva lavorare su una candidatura che potesse rappresentare la compattezza del centrodestra e che riuscisse però a rappresentare anche le idee del centrodestra, che è uno dei problemi che poniamo sempre nella coalizione. A dirlo, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Catanzaro, ad una manifestazione a sostegno della candidatura a sindaco di Vandaferro, parlamentare del partito, che corre da sola perché le altre due forze del centrodestra, vale a dire Lega e Forza Italia, sostengono Valerio Donato. Non è stato possibile, e a noi pare, con tutte le difficoltà del caso, i tempi e altro, che partiamo comunque da un vantaggio. Tutti conoscono Vandaferro a Catanzaro, la conoscono come donna, come amministratrice, come politica, come persona che è legata a questa terra e che per questo può dare le risposte che servono. Una persona che non ha padroni e che non ha amici degli amici da accontentare. E io credo che sia esattamente quello che serve, in una terra come questa. Noi chiediamo chiarezza, chiediamo regole, chiediamo rispetto e chiediamo orgoglio per rappresentare questa metà campo. Perché io non crederò mai al racconto per cui in Italia per essere presentabile tu devi essere di sinistra o andare a braccetto con la sinistra o governare con la sinistra. Io penso che sia molto presentabile tentare di governare questa nazione con le idee e i valori del centrodestra. Per Giorgia Meloni, con gli altri partiti del centrodestra, è mancata la volontà di anteporre i bisogni dei cittadini di Catanzaro ai problemi interni delle singole forze politiche. È mancato il fatto di credere che dare una speranza, un'occasione, un futuro ancora migliore ai cittadini di Catanzaro fosse più importante di garantire le singole correnti all'interno dei partiti. Adesso saranno i cittadini a dire cosa pensano. La Sanità è Giuseppe Profiti, il commissario straordinario di Azienda Zero, il nuovo ente regionale di governance del settore sanitario. Lo ha nominato il presidente della regione Occhiuto nella sua veste di commissario della Sanità. Nato nel 1961 a Catanzaro, Profiti ha un curriculum di manager di Spessore, ex presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, ma anche superconsulente della regione Liguria. In carica per un anno sarà il perno del nuovo sistema sanitario regionale ridisegnato dal presidente Occhiuto. Sovrintenderà Profiti sia sul Dipartimento Tutela della Salute, sia sulle aziende sanitarie e ospedaliere. Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 763 nuovi casi di Covid. Si registrano anche 5 decessi sul fronte ospedaliero, nessun nuovo paziente in più nei reparti ordinari, mentre si registra un nuovo ingresso nelle terapie intensive. Il tasso di positività è arrivato al 15,3%, sono questi i dati del bollettino quotidiano della regione Calabria. Michele Lucente di Crotone è stato confermato alla guida di Fondi Impresa Calabria dall'Assemblea dei Socii, riunitasi a Catanzaro. Il fondo interprofessionale costituito da Confindustria e poi dai sindacati CGL, CISL e UILA attraverso le sue organizzazioni regionali mette a disposizione delle aziende aderenti tre diversi canali di finanziamento per la formazione del proprio personale con l'obiettivo di promuoverne il miglioramento continuo e supportarne la crescita. Voglio ringraziare, dice Michele Lucente, un'industria Calabria e i sindacati per la rinnovata fiducia nei miei confronti. Ed ora ci occupiamo di un settore importante dell'economia calabrese, quello della zootecnia, quello degli allevamenti per dirla in parole semplici. La regione mette in campo ulteriori risorse per 5 milioni e mezzo. In arrivo oltre 5 milioni e mezzo di euro a sostegno del comparto della zootecnia regionale e più precisamente riguarda la graduatoria definitiva della misura 14 del PSR Calabria Benessere degli Animali, valida per l'annualità 2021, con la quale a seguito dell'istruttoria delle istanze di riesame pervenute sono risultate essere ammissibili 970 interventi. Con riferimento all'annualità 2022 invece verrà utilizzata la restante parte della dotazione complessiva della misura 14, pari a 8 milioni, eventualmente integrata da economie. Viene pubblicata finalmente la graduatoria sul benessere animale, la misura 14. Questa è una mia vittoria poiché ho manifestato la volontà già dallo scorso anno di fare una misura che potesse premiare tutta la zootecnia calabrese. Non solo una parte come era stato in passato nel quinquennio precedente. Attraverso questa azione, attraverso un investimento della regione che di altri circa 10 milioni di euro noi per un biennio riusciremo a dare sostegno a tutta la zootecnia calabrese poiché riteniamo che tutta la zootecnia vada sostenuta nel momento in cui faccia investimenti, nel momento in cui lavori per il benessere animale. Tra l'altro la misura del benessere animale dall'Europa è stata considerata, quella della nostra regione, un esempio per tantissime altre regioni d'Europa. E quindi di questa misura dobbiamo essere orgogliosi e attraverso di essa noi naturalmente facciamo star meglio i nostri animali, il nostro settore zootecnico ma sosteniamo anche gli imprenditori, gli allevatori. Prima un'idea, poi un progetto, ora una realtà. La ciclovia dei parchi si arricchisce di un valore aggiunto. A Campotenese è stato inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile realizzata dal Parco Nazionale del Pollino che conduce sino a Morano Calabro. A Campotenese al ridosso del giardino della Catasta è stato inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile realizzata dal Parco Nazionale del Pollino sul tracciato dell'ex strada ferrata che conduce fino a Morano Calabro. La ciclovia dei parchi vincitrice dell'Oscar sul cicloturismo del 2021 oggi si arricchisce di un valore aggiunto che ne permette di valorizzare il contesto ambientale, culturale e paesaggistico. Noi abbiamo messo a disposizione di tutti i cicloturisti, non solo del nostro paese ma di tutta l'Europa questa straordinaria infrastruttura di mobilità sostenibile. Però fatemelo dire con orgoglio, una giornata meravigliosa, io l'ho detto nel mio discorso, si parlava sempre di questi riferimenti giustamente alle grandi regioni del nord, al Trentino, al Piemonte, da quant'altro oggi anche la Calabria può annoverare un'infrastruttura di questo genere unica che attraversa credo uno scenario unico al mondo. Lungo i tornanti dell'ex strada ferrata che collegava Castrovillere a Lago Negro si compie un progetto di grande valorizzazione del territorio nato dalla collaborazione tra Regione Calabria e Ente Parco Nazionale del Pollino che ora proseguirà con il nuovo finanziamento già stanziato per portare a compimento un nuovo tratto di ciclovia da Campotenese a Mormanno. Siamo riusciti a portare a compimento questa bella opera. Come già ho detto prima nella mia comunicazione, questo è un progetto che viene fuori da un bel po' di tempo. Quello che il comune di Morano Calbro, grazie all'amministrazione comunale, è stato capace di crederci e di portarlo oggi veramente a compimento. Questo è un progetto dove noi dovevamo cercare di chiuderlo per avere la proprietà del tracciato perché la proprietà del tracciato ci è stata data dal demanio dello Stato e il trasferimento veniva fatto definitivamente solo quando si sarebbe realizzato un progetto e lo stesso progetto doveva essere comunque collaudato e finito. Quindi questa è una grande cosa. Con la nuova programmazione, i fondi del PNRR o della Comunità Europea, la ciclovia arriverà fino ai confini della Basilicata e poi ancora da Castrovillari dove già esiste un tratto di ciclovia che si collega a Morano Calabro, proseguirà fino a Civita. Voltiamo pagina, mistero, azione, suggestioni, cinema di qualità ancora protagonista in Calabria. Si sono concluse le riprese di Diabolic 3 basato sull'onio fumetto per la regia dei Manetti Bross, firme cult del cinema italiano. Tra l'altro si tratta di persone e di registi di origini calabresi. Truppa a lavoro tra le meraviglie della Tonnara di Palmi e dell'isola di Dino di fronte a Praia Mare. Le sequenze calabresi del film prodotto in collaborazione con la Calabria Film Commission narrano le vicende di Diabolic Bambino, interpretato da due giovanetti di Palma. Ed ora le previsioni del tempo, come sempre a cura di trebimeteo.com Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione nordafricana continuerà a insistere in modo particolare sulle regioni del centro-sud Italia, anche se sulla Sardegna tenderà a isolarsi. una circolazione depressionaria proprio tra la Sardegna e le isole Baleari che porterà qualche disturbo. Ma vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra un'Italia, le prese con molte velature, cariche di pulviscolo sahariano che interessano il centro-sud dell'Italia, ma densamenti più frequenti interesseranno anche la Sardegna, qui con dei piovaschi. Infatti passando proprio a vedere la grafica del zoom delle precipitazioni, notiamo come questa circolazione depressionaria che insiste tra le Baleari e la Sardegna e la Sardegna porterà anche qualche pioggia sull'isola, oltre ai locali disturbi sull'arco alpino. Vediamo quindi il tempo che ci attende nel corso della giornata di giovedì sull'Italia. Avremo qualche disturbo sulle Alpi nelle ore pomeridiane, tempo soleggiato su gran parte del paese, seppur con frequenti velature al centro-sud. Disturbi invece sulla Sardegna, qui con la possibilità anche per qualche temporale. Il clima sarà particolarmente caldo, specie sulle regioni centrali, con punte anche di 32-34 gradi sulle zone interne tra Toscana e Lazio. Per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. L'informazione tornerà più tardi. Grazie. 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 Grazie.